Rissa! Tutti contro tutti! 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 Restano solo cinque minuti! Tutti contro tutti! Tutti contro tutti! Tutti contro tutti! Tutti contro tutti! Contra tre minuti! Terza posizione! Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Non lasciare la vittoria in mano al nemico senza lottare. Sì, sì. Ancora tre minuti. Sì, terza posizione. Sì, terza posizione. Non è affatto male. Senza rinforzi né alleati, a volte capita di soccombere. Combatti ancora, combatti ancora e non pensarci.